Un inseguimento concluso con la cattura di un uomo che ieri pomeriggio avrebbe esploso alcuni colpi di pistola a Trani, in via Cilea, in zona stadio, nei pressi dell'abitazione di Antonio Mastrodonato, il giovane pregiudicato, ucciso lo scorso 12 febbraio in via Superga. Un uomo alla guida di un Audi nera sarebbe stato visto esplodere alcuni colpi di pistola e poi sarebbe scappato, sulle tracce si sono messi polizie e carabinieri. Si è trattato probabilmente di un avvertimento intimidatorio nei confronti dei familiari della vittima di quella guato. Dopo l'esplosione dei colpi sarebbe nata la segnalazione di un'auto sospetta, l'Audi nera appunto, è stata poi intercettata poche ore dopo in via Mario Pagano. Una volta avvistata la vettura ne è nato un inseguimento spericolato per le vie del centro di Trani che si sarebbe concluso con la cattura di una persona. Va ricordato come lo scorso 12 febbraio fu ucciso un mastrodonato in via Superga nei pressi di una pizzeria. Fu una vera e propria esecuzione per il giovane di 21 anni che aveva precedenti per spaccio. Negli attimi prima del lagguato provava a fuggire ma fu freddato dai colpi di pistola. Ieri pomeriggio l'episodio dell'esplosione di alcuni colpi, ora gli inquirenti stanno cercando di capire che tipo di collegamenti ci siano tra i due fatti di cronaca. L'ipotesi da valutare è quella di un avvertimento ai familiari del 21enne ammazzato. Grazie. Grazie.